Una domanda da tecnico, quanto è pesante il fatto che un ministro dell'interno quereli un giornalista utilizzando tra virgolette la carta intestata del ministero? Una cosa brutta e istituzionalmente inusuale, io credo che se il ministro che ha la responsabilità politica e istituzionale della sicurezza del querelato sente evidentemente una sua esigenza di querelare, perché anche il diritto di querelare è un diritto, perché se uno si sente diffamato non è che poi, siccome fa il ministro, non può fare una querela, però almeno ci sarebbe il buon gusto di farlo non su carta intestata, perché poi da questo punto di vista mi pare che hanno ingacciato un duello Salvini e Sapiano, quindi credo che ne vedremo ancora, perché vedo che si dicono cose abbastanza vivaci.